Ciao, come sicuramente saprai ho da pochissimo tempo pubblicato il mio libro sul tennis betting è l'unico libro che è uscito in Italia che ti permette di avere un approccio professionale al mondo delle scommesse sportive sul tennis che ti permette di guadagnare denaro fin da subito con il mondo delle scommesse sportive e che ti permette di avere un approccio professionale al mondo delle scommesse l'unico approccio che risulta essere profittevole e che ti permette di guadagnare come faccio io molti e moltissimi profitti ogni mese quello che ti voglio dire con questo video è molto semplice nel libro trovi una prima parte che tratta gli aspetti psicologici del betting gli aspetti di cui nessuno ti parla nella seconda parte ti parlo di macro variabili e micro variabili altro argomento di cui non parla mai nessuno è un argomento che ti permetterà grazie al mio libro di creare uno strumento per generare le tue analisi uno strumento su misura tramite una serie di dati che ti do proprio all'interno del libro e ti dico come calcolare praticamente otterrai la possibilità di generare il tuo strumento personalizzato al pari di una seconda pelle per poter guadagnare con il mondo delle scommesse sportive sul tennis perché ti dico questo? perché tutti i professionisti, me compreso, tutti i professionisti di questo settore di questo mondo praticamente hanno il loro strumento su misura ogni professionista deve avere il proprio ogni professionista può sviluppare, anzi e deve sviluppare il suo e quindi questo libro ti fornisce le basi per il professionismo ti fornisce un approccio professionale per guadagnare fin da subito denaro con le scommesse ma soprattutto ti regala l'opportunità di creare il tuo strumento seguendo le mie indicazioni il libro sarà disponibile per 10 giorni al prezzo di 97 euro e poi cambierà fino ad arrivare al prezzo di 147 euro questo è valido solo per 10 giorni quindi per 10 giorni avrai il prezzo bloccato di 97 euro finiti questi giorni il prezzo arriverà finalmente a 147 euro per poi aumentare ancora quindi ti invito a muoverti a scegliere questo volume e gli altri servizi che puoi osservare della nostra azienda ti ringrazio per la visione e ti rinvio ai prossimi video